Cari amiche e cari amici, stiamo parlando di questo saggio di Evola, la dottrina del risveglio, abbiamo parlato anche della introduzione di questo illustre studioso, Jean Varenna, uno studioso della Sorbona, molto nel 1994, uno dei maggiori esperti di buddismo, che conferma la serietà delle tesi di Julius Evola, perché sono state in particolare, abbiamo visto che nel 1943 scrive la dottrina del risveglio e almeno per due o tre decenni successivi ci sono state tutta una serie di polemiche sul fatto delle analisi evoliane, se fossero troppo arbitrarie o rientrassero nella tradizione buddista. Jean Varenna, questo illustre studioso, uno dei maggiori studiosi, ci conferma la serietà delle analisi evoliane. Abbiamo anche visto poi come Evola abbatte dei luoghi comuni, che erano quelli che vedevano i buddisti come questa sorta di straccioni vestiti con lo straccetto arancione e la ciotola che andavano a mendicare, parlando di compassione, una sorta di buddismo che oggi potremmo definire New Age, e invece ristabilisce, e vuole nelle sue analisi, una prospettiva di una visione aristocratica e guerriera del buddismo, proprio perché appunto il principe Shakyamuni era un figlio di un re, principe educato dunque anche all'arte delle armi e della guerra, e la sua era una visione aristocratica e guerriera. Questa era grossomodo la sintesi del contenuto del primo video. Andiamo avanti adesso. Evola ci mostra dunque come questi pregiudizi determinati da questa serie di luoghi comuni, che le vedevano il buddista semplicemente come questa sorta di non violento, passivo, una sorta di ipnotizzato che cammina sempre in uno stato alterato di meditazione, che lo inebria in uno stato di dormiveglia e sempre perennemente portato verso l'innazione. Ecco, Evola demolisce questa immagine legata alle precomprensioni e al pregiudizio e ci pone l'immagine di uno Shatria, il Buddha apparteneva alla casta dei guerrieri. E anche il pessimismo buddista, ancora oggi c'è questo luogo comune che vede, questo è sempre il buddismo con una sorta di pessimismo, visioni popolari ma anche molto superficiali, che a volte hanno anche delle persone colte che non abbiano approfondito il buddismo. Il buddismo è vero che Buddha affermò che tutto è sofferenza, però Buddha chiarì poi, legato proprio a un esempio guerriero, cioè Buddha disse che i combattenti rischiano la vita per la brama del saccheggio e per il piacere della gloria. E poi, una volta finito il combattimento, che cosa accade? Che vengono immancabilmente disillusi, proprio perché tutto è impermanente, tutto è illusorio, il bottino è magro, il bottino in cui avevano sperato si rivela magro e viene ben presto dissipato, anche se un bottino notevole viene speso e sperperato. E la gloria avuta in battaglia appassisce con rapidità. Questa è la visione pessimistica di Buddha. Però Buddha non si ferma qui, attenzione, perché Buddha ci dice che se noi prendiamo coscienza di questo stato, ecco qui l'uscita da questa sorta di pessimismo che è un luogo comune, il pessimismo si dissipa, perché se noi sviluppiamo la nostra consapevolezza e se noi ci risvegliamo, appunto, la consapevolezza e la presa di coscienza è un aspetto, uno degli aspetti del risveglio, dell'illuminazione. Ecco che il pessimismo si dissipa. Perché? E questa è la chiave di lettura. E questa è la chiave di lettura, amici, perché la realtà non è né buona né malvagia di per sé. Ecco l'uscita da questa sorta di pessimismo un po' imbambolata. Non è assolutamente così. E dunque la realtà, per chi prende coscienza, va vista come inserita in questo continuo divenire, che è la cosa oltretutto della impermanenza delle cose, questo continuo divenire. Per cui tutte le cose ci muoiono intorno in continuazione. e questo divenire, questa impermanenza delle cose, non può essere interrotta. E dunque ecco che dobbiamo vivere ed agire per sviluppare la nostra consapevolezza, per sviluppare la consapevolezza nel presente, nel qui e ora, perché per noi deve contare solo l'istante. Dunque ecco il pessimismo di Buddha e la presa di coscienza che tutto è sofferenza, è l'inizio del percorso. Ma Buddha ci indica anche l'uscita a questo, perché questo non è assolutamente pessimista, come dice il luogo comune. Ecco che il Dharma si afferma con un unico riferimento che sottolinea Evola in più di un saggio. Fa ciò che deve essere fatto. Ossia, in altre parole, fa sì che il tuo agire sia completamente disinteressato. È quello che nei miei video parlo, analizzo nell'agire senza agire. È anche un video intitolato così per chi è interessato. Rivede il video agire senza agire, l'azione spontanea, conseguente alla consapevolezza che si sviluppa nella meditazione. Poi Evola sottolinea anche che il termine ascesi, perché anche questo termine era stato visto come una sorta sempre di passività, di queste forme di ascetismo, di gente che va nel deserto, sta lì isolata dal mondo. No, no, assolutamente no. Evola ci dice che il termine ascesi spesso genera errori proprio, scrive Evola, per coloro che guardano il buddismo dall'esterno in maniera superficiale. Perché ci dice Evola che il senso originario della parola ascesi è esercizio pratico. Questo significa esercizio pratico e disciplina. e potremmo anche utilizzare apprendimento. E come vedete non si discosta da quello che è il decimo tono, è anche dal mio insegnamento, che si fonda sulla pratica, la pratica, la pratica. E questa l'ascesi, anche di cui parla Buddha, è questa l'ascesi di cui sottolinea l'aspetto Evola, la pratica, quindi ascesi intesa come pratica, come disciplina e apprendimento della disciplina. Questo è l'ascesi. Non questa sorta di mortificazione legata all'idea di penitenza, di senso del peccato che nel buddismo non esiste, come nel cristianesimo, perché non esiste un peccato originale. E dunque neanche questa volontà di mortificazione che non c'è. E poi queste sono le distorsioni del buddismo, perché abbiamo visto che proprio l'idea, la volontà di mortificazione legata alla penitenza e a queste forme di ascesi in senso drastico, drammatico, furono a un certo punto, in un certo senso, rifiutate dal Buddha. Appartenero a una fase che poi Buddha superò. Quando sentì il famoso discorso, lui stava in fin di vita e sente il discorso del musicista che insegna al proprio allievo, gli dice, gli uto, la corda deve essere né troppo tesa, se no si spezza, né troppo lenta, se no non suona. E Buddha capisce, ecco, a livello intuitivo, che la corda troppo lenta era di quando stava a fare quel tipo di vita dissoluta alla corte del padre, quando era ancora il principe Siddhartha, amante del lusso. E la corda troppo tesa era quello che stava facendo, un'ascesi prolungata dove rischiava di morire. Ed ecco il cammino della via di mezzo che è il reale spirito del Buddha. Dunque non questa ascesi legata alla sofferenza per espiare il peccato, questa è una concezione cristiana. E dunque poi è stata proiettata sui buddhisti, ma non c'entra assolutamente niente col buddismo. È un'ascesi nel senso appunto di pratica e divisione guerriera che comprende sempre la sfida con se stessi. Evola poi rimase, Evola passeggiava sotto un bombardamento, quando una scheggia lo prese alla spina dorsale e rimase paralizzato per trent'anni, Evola. Non si lamentò mai un attimo di questo. Probabilmente per come conosco Evola io da quel che ho letto, ho conosciuto anche gente che l'ha conosciuto personalmente, me ne ha parlato, probabilmente Evola l'avrebbe pure rifatto. Se gli avessero chiesto ma tutto tornando indietro l'avresti rifatta la passeggiata sotto le bombe? Probabilmente avrebbe detto sì. Perché aveva questa visione aristocratica e guerriera, ecco questa visione ascetica di sfida con se stessi. Per questo amava. Evola poi fa disperdere le sue ceneri sulle Alpi quando muore, perché era un amante della montagna, era un alpinista e paragonò poi l'ascesi proprio allo sforzo dell'alpinista, perché per un profano la scalata è uno sforzo inutile. Il profano pensa ma chi glielo fa fare? Perché devono faticare così tanto? Invece per l'alpinista, per chi sta dentro quella dimensione, la scalata è un atto eroico, un modo in cui si rischia la vita nelle scalate come quelle che faceva Evola. Rischi la vita, devi mantenere la consapevolezza sulla scalata, altrimenti precipiti, ti schianti in un burrone. È dunque un esercizio di consapevolezza costante e di costante sfida con se stessi. Questo era l'alpinismo di Evola, era un alpinista che fa dei paragoni proprio con questo tipo di eroismo, con questo tipo di ascesi. Non con l'ascesi legata al peccato, al peccato originale, nasciamo col peccato, dobbiamo espiare. Assolutamente non c'entra nulla il buddismo con tutto questo. Dunque il Buddha, tra l'altro, abbiamo visto che si era dato una forma di ascetismo simile a quella degli eremiti del deserto. Aveva fatto questi digiuni prolungati, queste pratiche che tendevano a spezzare la resistenza del corpo, alla morte. Alla fine sarebbe morto lui se non avesse udito questo discorso, per queste pratiche estreme di ascetismo. Ma ottiene il risveglio quando comprende che quella anche era una via senza uscita, esattamente come era sbagliato stare lì, nella corte del padre, immerso nel lusso, e Buddha comprende che anche questa forma di ascetismo estremo era totalmente sbagliata e controproducente. È lì che poi raggiunge il risveglio. Con grande scandalo dei discepoli che pensavano, ah, ha smesso di mortificarsi, poi ci fu una ragazza che gli aveva da mangiare, la prese era fuori dagli schemi, era fantastico, Buddha, era fuori dagli schemi. E dunque mangiò, oltretutto le donne non potevano avvicinare gli asceti, lui mangiò proprio col cibo, con l'acqua che gli offriva una ragazza, e tutti lo disprezzarono, esattamente come i vari intellettualozi, poi hanno intellettualoidi e pennivendoli, servi del potere, hanno disprezzato Evola al punto di relegarlo ai margini di una dimenticanza, dell'oblio, una sorta di oblio su un intellettuale di levatura così grande. E così pure Buddha lo disprezzava, no, hai preso il cibo da una donna, hai smesso con il digiuno, non sei nessuno. E Buddha viveva nella consapevolezza. Ma figuratevi se si faceva toccare dalle critiche dei suoi compagni di Ascesi. E' lì che iniziò realmente ad agire con il vero distacco, non legato a queste forme, questa sorta di masochismo di queste forme ascetiche. Ma allora il distacco, l'Ascesi come pratica, come disciplina, che è fondamentalmente una disciplina della mente, una disciplina dell'interiorità, va bene? E questo è il significato profondo dell'insegnamento del principe Siddhartha, principe, figlio di un re aristocratico, che divenne il Buddha, colui che esce dal sonno, il risvegliato, la scelta che era legato alla dinastia dei Shakyamun, dinastia guerriera, re, il padre di stirpe di shatre, di guerrieri. E ecco che tutto il valore della dottrina del risveglio di questo libro di Evola sta nell'evidenziare proprio questo buddismo autentico, questo buddismo autentico legato a una visione aristocratica e guerra dell'esistenza, a una visione appunto dello shatria, della casta dei guerrieri. E attenzione perché Evola scrive utilizzando in maniera massiccia le fonti originali, che erano state raccolte nel canone in lingua pali. Buddha parlava in lingua pali e predicava in lingua pali. E dunque la lingua originaria, da cui attinge, poi cerca in ogni caso di attingere Evola, è la lingua pali, ma attenzione perché a Evola non è un pennivendolo, per quello sto parlando di Evola sul mio canale tra l'altro. Evola non è per un... Lui diede degli esami, si fermò, mancava solo la laurea e non la diede proprio in segno di disprezzo dei riconoscimenti accademici. Quindi era una persona estremamente colta, ma rifiutava questa logica dei pennivendoli e questo tipo di riconoscimento sociale. Ed ecco che questa erudizione dunque di Evola, questo suo rifarsi ai testi originali, questo suo studiare anche la lingua pali, prendere contatto con maestri anche indiani, tutto questo ha delle finalità pratiche in Evola. Non è un esercizio semplicemente di speculazione mentale. Non sta lì a filosofeggiare Evola. Evola è un dito che indica la luna, esattamente come Buddha è un dito che indica la luna. Evola è un maestro, anche egli, e ci dà delle indicazioni pratiche. E scrive questo libro, non come la maggior parte di questi intellettualoidi e pennivendoli serviti del potere che stanno lì a disquisire per farsi belli davanti a professori universitari o se sono professori universitari, per dimostrare e per far sfoggio della loro cultura. A questo non gliene frega assolutamente nulla Evola di tutto ciò. Evola gli interessa di portare il messaggio della tradizione e di mostrarci, ecco il dito che indica la luna, come la tradizione si esprime, questa realtà eterna, sovratemporale, metastorica, si esprime in diversi momenti nella storia, anche attraverso diversi individui, ma restando incontaminata. E questo aspetto della manifestazione della tradizione attraverso la storia di Buddha che interessa mostrare ad Evola per arrivare noi stessi a una visione eroica e guerriera dell'esistenza e a un'attuazione pratica del buddismo, a una conoscenza intellettuale che lascia veramente il tempo che trova. E l'ho detto tante volte nei miei video, nel mio canale, questi intellettuali che arrivano, li respingo anch'io, cioè sono gentile con loro, magari, però non sono interessato a questo aspetto. Bisogna praticare anche per capire i miei video, altrimenti un esercizio intellettuale, ma a che serve tutto ciò? A nulla. Ecco, dunque, che Evola ci propone una riflessione sulla scesi del Buddha, cerca di riproporre lo spirito originario, come abbiamo visto nel primo video, in totale controtendenza rispetto a quello che erano i luoghi comuni del suo tempo. E c'era, dicevo, questa guerra civile, c'erano i partigiani che combattevano poi contro i repubblicani della Repubblica di Salò. E Evola scrive questo libro. Scrive questo libro, nessuno se lo sarebbe mai sognato di scrivere un libro su Buddha in quella situazione. Però Evola vedrà materialmente la pubblicazione di questo libro, ovviamente soltanto nel dopoguerra, perché non è che c'erano in quella situazione di caos e di vera civile che ci fossero tutti questi editori disposti a pubblicare in quel momento un libro sul buddismo. E Evola scrive queste parole. Sentite. Allora, scrive. Un attimo, quello avevo segnato. Allora, con quel libro ho pagato un debito che avevo nei riguardi della dottrina del Buddha, che ebbe un'influenza decisiva per il superamento della crisi interiore che personalmente attraversai subito dopo la Prima Guerra Mondiale. e aggiunge in seguito dei testi buddhisti fece anche un uso pratico e realizzativo e quotidiano per alimentare una coscienza distaccata del principio di essere da colui che era stato un principe de Chakya era stata indicata una linea di discipline interiori che io sentivo tanto congeniali quanto invece sentivo estranea la linea dell'ascesi a base religiosa in particolare quella cristiana. Questo è quello che scrive Evola. Evola dunque attenzione non era un buddista e lui ci tiene anche a specificarlo non era uno specialista del buddismo e per chi lo considerava tale dopo che aveva scritto la dottrina del sveglio lui dice chiaro e tondonoso sbaglia perché io non voglio essere considerato uno specialista del buddismo vedeva il buddismo come una via una delle vie possibili per l'uomo del Kali Yuga di questa età di decadenza di corruzione e decadenza e nel Cammino del Cilambro dove Evola parla un po' della sua vita racconta le sue letture è un libro prezioso per chi voglia ripercorrere un po' le tappe anche intellettuali di Evola il Cammino del Cilambro che per anni tra l'altro non è stato infatti gli amici me l'hanno dato fotocopia adesso invece l'hanno ristampato mi sembrava l'edizione mediterranea il Cammino del Cilambro ecco nel Cammino del Cilambro spiega Evola questa necessità di esplorare tutti i percorsi che possono essere attuati per sviluppare la propria consapevolezza in questa età di decadenza e a questo poi dedicherà in particolare un libro che consiglio vivamente a tutti coloro che vogliono avere indicazioni pratiche sul Kali Yuga oltre a quelle del mio canale che è questo saggio che è Cavalcare la Tigre Cavalcare la Tigre è un altro libro rivolta contro il mondo moderno a me ha cambiato proprio mi ha cambiato la vita l'ho letto che ero giovanissimo ero giovanissimo e e mi ha cambiato letteralmente la vita cioè finito quel libro vedevo la realtà in un altro modo è incredibile un libro un libro che ti fa vedere la realtà in un altro modo rivolta contro il mondo moderno rivolta contro il mondo moderno abitua a riconoscere gli elementi di sovversione cos'è la sovversione della modernità è prezioso da questo punto di vista poi non è un libro di facile lettura questo lo devo dire soprattutto per gli amici che non hanno una preparazione di base non è un libro di facile lettura però per chi può leggere per chi è abituato ai mattoni per chi ha anche una cultura storica filosofica è un libro che va assolutamente letto e affascinante ci sono oltretutto proprio gli elementi fondamentali della della visione della evoliana quindi rivolta contro il mondo moderno e poi cavalcare la tigre che è una sorta di manuale di sopravvivenza su come lo scrive proprio come manuale di sopravvivenza per sopravvivere al Kali Yuga come può uno spiritualista una persona dedita alla meditazione e così sopravvivere a queste sovversioni del Kali Yuga e Evola abbiamo visto si interessa della tradizione vede che ci sono elementi comuni con altre tradizioni e vede per questo si interessa anche di Buddha perché nel Buddha da lui descritto nell'illuminato nel risvegliato ci sono le caratteristiche che Evola la riscontra anche nello stile romano nello stile guerriero romano non ridotto a farza attenzione e quindi rivede questo spirito romano che troverete nella mia playlist su Roma parlo dello spirito autenticamente romano di che cos'era realmente la romanità Evola ritrova questo spirito romano questi tratti di una resità non teistica che non ha niente a che vedere con questi moralismi e morali d'accatto ma una spiritualità legata al dominio di sé legata a forme di ascesi appunto intesa come disciplina che sono in grado di fare l'uomo simile agli dei cioè di portare un grado di giungere un grado di spiritualità simile prossima potremmo dire al divino ed ecco il buddismo originario che è stato formulato in vista della condizione di l'uomo al tempo di Buddha e l'uomo a cui si rivolgeva Buddha certo non era la condizione del materialismo occidentale di oggi però non c'era neanche il Kali Yuga avanzato come ai nostri giorni nel periodo del Buddha però c'erano in germe tutte queste potenzialità e allora Buddha parla all'inizio del Kali Yuga questa è la cosa interessante e dunque è un messaggio per gli uomini anche del Kali Yuga e questo è l'aspetto anche che interessa ad Evola perché ci dà Buddha le coordinate di sopravvivenza al Kali Yuga e afferma questo tipo di religiosità quando Nietzsche poi dirà nel 1900 more Nietzsche Dio è morto Dio è morto ebbene a 5.000 anni prima al 2500 anni prima agli inizi del Kali Yuga ci diceva Buddha ci proponeva una spiritualità per un Dio che è morto secondo la concezione nicciana per l'uomo che sta per perdere la stella d'Oriente perché tutti i vari rituali dei bremani lo trovate nella mia playlist che cos'è lo yoga come erano degradati tutta l'antica religione indoaria in stelli e ripetitivi rituali e Buddha in realtà non rompe con la tradizione attenzione non rompe con la tradizione che è un altro luogo comune dice rompe totalmente fa una cosa totalmente nuova manco per niente Buddha Buddha in realtà rinnova la tradizione rinnova la tradizione per l'uomo del Kali Yuga dalle coordinate per l'uomo del Kali Yuga è per questo che ci interessa anche a noi che viviamo dopo il 2000 ecco che il buddismo originario ci dà un sistema completo e virile legato alla nostra relazione con la sovversione del Kali Yuga quest'uomo contemporaneo che vive in questa sorta di condizioni semisonnambolica che si muove come una sorta di zombie tra riflessi psicologici immagini che gli celano la sostanza più profonda dell'esistenza in quel famoso velo di Maya di cui ci parlano anche le Upanishad questo uomo che deve svegliarsi ecco che Buddha il buddismo ci propone una ascesi legata a una visione guerriera dell'esistenza è la disciplina e questa dottrina ascetica che sembra al tempo di Buddha ideata per un modo di vivere diverso da quello dell'uomo occidentale moderno e qui Evola fa una riflessione interessante interessantissima perché Evola ci dice aspettate che l'avevo messo da parte un attimo me lo segno ve lo voglio proprio leggere questo è interessantissimo sentite qualcosa cosa dicevo allora una volta che il distacco sia viveca lo si interpreti soprattutto in senso interno esso si presenta forse come più facile da realizzare oggi che non in una civiltà più normale e tradizionale cioè ci dice quello che dice Buddha in realtà è più facile ancora oggi di essere realizzato che non nello stesso periodo di Buddha sentite perché interessante questo è sempre Evola con spunti interessantissimi sentite il perché dice perché in una grande città d'Europa o d'America fra grattacieli asfalti tra masse politiche e sportive tra gente che balla e schiamazza tra esponenti di una cultura sconsacrata di una scienza disanimata disincantata in tutto ciò ci si può sentire sempre più solidi staccati e nomadi al tempo del buddismo non c'era un isolamento fisico di questo tipo e allora la maggiore difficoltà oggi consisterebbe nel dare al senso interno di isolamento che oggi si presenta in queste condizioni dei caratteri di positività eliminando tutto ciò che può facciarsi come aridità angoscia tonia o disagio la solitudine non dovrebbe essere un peso qualcosa di cui si soffre che si sopporta involontariamente o in cui ci si rifugia a causa delle circostanze ma una disposizione naturale semplice e libera quindi ecco ci dice questa città questa dimensione pazzesca dove viviamo può essere per il ricercatore serio uno stimolo per la solitudine interna e per il distacco da questa sovversione del Cadiuga al prossimo video cari amici un caro abbraccio Marco Cosmo